ragazzi lasciate un mi piace perchè mi si è rotto il ca... più o meno da sbrizzere l'occhio è tutto spero che questo episodio vi abbia fatto sorridere un pochino quindi se volete che l'occhino abbia un suo cagnolino sulla serie di minecraft e lasciate i 5.000 mi piace e ci rivedremo non ci sarà sbrizzere perchè per sbrizzere ci vogliamo almeno 10.000 mi piace ma su un video di robot non ci riusciremo mai quindi ciao aspetta l'occhio guarda ancora avanti guarda ancora avanti guarda dove sei? guarda ancora avanti 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 But I still know it's just inside of me